I capaci ci fanno fare la guerra. Ci siamo fatte una promessa di te. Che sta guerra l'ha finito, lo ricordi? Stiamo sotto attacco. Sta per tornare Gomorra. La quarta stagione debutterà il 29 marzo in esclusiva su Sky Atlantic e si preannuncia ricca di colpi di scena. Il trailer appena rilasciato dei nuovi episodi mostra la nuova vita di Jenny e della sua famiglia. È in corso una guerra che nessuno sembra volere e ci sono nuovi personaggi che vogliono affermarsi in un sistema dall'equilibrio sempre più precario. Iniziano a delinearsi i ruoli, le svolte impreviste, gli scontri e le alleanze. E si vedono tutti i protagonisti della serie nata da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo monimo romanzo Jenny, Salvatore Esposito, Patrizia, Cristiana Dell'Anna, Enzo, Arturo Muselli, Valerio, Loris De Luna e Azzurra, Ivana Lotito e alcune new entry. I dodici episodi in arrivo sono diretti da Francesca Comencini, responsabile anche della supervisione artistica della quarta stagione, da Claudio Cuppellini, Enrico Rosati, Ciro Visco e Marco D'Amore, il Ciro delle altre stagioni che passa questa volta dietro alla macchina da presa. Questa è la vita nostra. Tutto quello che mi dimannata, che cosa fa che c'è nato? Non è capitato ancora come funziona qua? Dopo ho fidato a nessuno. Dopo ho fidato a nessuno.